ma anche degli utenti. Ad oggi la situazione purtroppo è quella che avevamo previsto due anni fa quando si è iniziato a votare delle delibere in Consiglio Comunale per fare entrare l'ATL dentro il CTT. La situazione, basta vedere anche quello che è emerso con il sequestro delle due vetture, secondo noi raggiunge dei toni imbarazzanti e vogliamo capire, chiamando a un confronto tutte le forze politiche ma soprattutto anche i sindacati e anche chi governa questa città, per capire quale sarà il futuro del trasporto pubblico a Livorno e nella provincia.